Buon pomeriggio a tutti, rivolgo un caloroso saluto a tutte e a tutti i partecipanti e ai tanti ospiti che anche se in modalità virtuale da questa mattina stanno animando questa intensa giornata di dibattito, di confronto e anche di condivisione. Saluto in particolare i parlamentari, i membri del governo, gli amministratori locali, gli esponenti politici della società civile che hanno promosso questa Assemblea Nazionale Digitale, l'avete ribattezzata Ecologica con l'obiettivo di fare rete, di connettere esperienze di civismo, associazionismo, attivismo democratico. Imparare dal presente e costruire il futuro. Sono le parole d'ordine di questo appuntamento e un auspicio che condivido pienamente. Parla soprattutto della necessità di dotare il Paese di una visione ampia, strutturale e riformatrice. La pandemia rappresenta per tutti noi uno spartiacque, ha sottolineato senza mezzi termini i limiti anche dei nostri sistemi di vita, ha evidenziato l'acquirsi delle disparità socio-economiche, ha evocato la necessità di ripensare integralmente i modelli di sviluppo. Ci ha costretto ad assumere, tutti, nessuno escluso, la responsabilità non già di tornare presto alla normalità di ieri, ma di porre le basi per un nuovo inizio, per una rinascita culturale, sociale, politica e anche economica. C'è una cosa che questa emergenza ci ricorda ogni giorno, direi. La forza delle persone che lavorano nella medesima direzione. Lo abbiamo visto nei momenti di difficoltà, quando il Paese si è stretto in un grande impegno mutualistico. Lo vediamo ancora oggi. In chi si rimbocca le maniche per ripartire, in chi non cede alla frustrazione e al pessimismo, in chi non si stanca di cercare soluzioni per rimettersi in marcia. Possiamo dire che ecologica incarna questo spirito. Spero che vi piaccia questa interpretazione. È un cantiere di idee in cui si ragiona a voce alta, il luogo in cui trovano a siro parole come giustizia sociale, equità, transizione ecologica, tutela dell'ambiente, sostenibilità, dignità del lavoro e diritto alla salute. Temi cari questi, come sapete, al governo, in cima all'agenda con la quale il nostro Paese si presenta alla sfida del nuovo anno. Il 2021 è un anno complesso di sfide. Presideremo i lavori del G20, ospiteremo il Global Health Summit, lavoreremo in partnership con il Regno Unito per la COP26 sui cambiamenti climatici. E proprio ieri a Bruxelles abbiamo raggiunto, lo voglio ricordare, l'accordo al Consiglio Europeo sul Green Deal, con il quale ci impegniamo a ridurre del 55% le emissioni per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il nostro Paese è nel gruppo di testa, non dobbiamo perdere questo primato. Ma il 2021 sarà anche l'anno del recovery plan, delle progettualità decisive per il futuro del Paese, quindi rivoluzione green, digitalizzazione e innovazione, investimenti in ricerca, istruzione e formazione. E poi ancora infrastrutture per una nuova mobilità sostenibile, centralità della salute, attenzione all'inclusione, alla coesione territoriale. Non si tratta solo di voti slogan elettorali, ma di una precisa agenda politica. E la mia azione è sempre stata orientata all'impegno e nella riduzione del divario delle diseguaglianze sociali alla creazione di una rete solidale per l'inclusione di tutti. E mi permetto anche di sottolineare che è centrale, sarà anche nel G20, il tema l'ho già ripetuto più volte, dell'empowerment femminile. Ma la battaglia decisiva è quella di oggi. È la battaglia delle idee di chi vuole consegnare alle future generazioni un mondo diverso, un mondo migliore. E sono certo che in questa grande sfida saremo gli uni al fianco degli altri, per lavorare insieme dalla stessa parte. Vi auguro un buon proseguo di lavori, un buon proseguo di confronto di idee.